Martina Attili ha mostrato di che pasta ha fatta con la sua esibizione ad X Factor Eccola come è diventata dopo tutto questo tempo all'anno di svolta per Martina Attili è stato il 2018 In quell'occasione la ragazza decise di partecipare ad X Factor come concorrente Sono passati quattro anni da quando Martina ha messo piede per la prima volta sul piccolo schermo, tempo sufficiente per vedere su di lei una grandissima trasformazione Tutti coloro che seguono i format musicali di sicuro non si sono persi l'esibizione di Martina Attili, ragazza che ha dato il meglio di sa sul palco di X Factor Martina immediatamente ha stata conosciuta come quella ragazza timida ma dall'immenso talento, una vera e propria forza della natura Esibizione che porta quadrato sul palco Chirofobia, un brano suonato perfettamente al pianoforte La sua esibizione è stata anche condivisa su YouTube, riuscendo ad ottenere milioni di visualizzazioni A se Martina riesce ad ottenere un successo immenso, il merito di sicuro va non solo al suo talento ma anche alla sua bellissima voce Il grandissimo cambiamento di Martina Attili molto spesso per a quadrato capita che, una volta messo piede nel mondo dello spettacolo, ci si lasci trasportare e si modifichino alcuni elementi del proprio aspetto Con il passare degli anni, Martina, non ha abbandonato la sua grande passione, ossia quella del canto Anche se è ben diversa da quella ragazza che abbiamo incontrato, per la prima volta, ad X Factor Di sicuro, questa trasformazione, le ha dato la possibilità di diventare molto più esponente uno sicura di sa Posa negazione da dare il meglio, ogni qual volta si esibisce Ma com'ha diventata oggi Martina Attili? A come leggiamo su Altra Notizia, quella ragazza timida ed introversa non esiste più esponente uno ed ha fatto spazio ad una cantante molto più esponente uno sicura di sa Una donna capace di conquistare tutti con il suo infinito talento Sul suo profilo social, quella ragazzina che aveva paura di esibirsi in pubblico, si è trasformata in una bellezza mozzafiato A che, in pia esponente uno di un'occasione, condivide con i suoi follower degli scatti molto sensuali Di sicuro il suo cambiamento non ha passato inosservato ai suoi 233.000 follower In modo particolare ha stata una foto ad essere apprezzata in modo particolare, uno scatto in cui Martina viene immortalata con il suo nuovo look Ha una frangia che si adatta perfettamente al suo bellissimo viso Il tutto ha completato da un make-up che, sottolinea ancora di pia esponente uno, quanto bella ed attraente sia diventata